Chi arriva alla tenuta Rocca di Montemassi ha l'opportunità di visitare il Museo della Civiltà Rurale, un luogo creato per testimoniare e raccontare le più autentiche tradizioni della cultura contadina. Il museo è una ricca collezione, risultato di una grande ricerca di oggetti e strumenti legati al mondo contadino e alle sue tradizioni. Il progetto è stato curato dal professor Mauro Zocchetta, docente presso l'Accademia delle Belle Arti di Venezia ed esperto di scenografia teatrale e allestimento museale. Il museo si compone quindi di oltre 3.000 pezzi, di diversi periodi storici, dal 1700 al periodo della Seconda Guerra Mondiale, e narrano lo stile di vita contadino precedente al processo di moderna industrializzazione che ha caratterizzato l'Italia nel secondo dopoguerra. Il viaggio nel mondo agricolo del passato si sviluppa in un percorso che descrive i diversi lavori agricoli in differenti ambiti produttivi, la produzione viticola, il processo di cantina, il lavoro nei campi e i vari aspetti dell'economia domestica. Una visita al Museo della Civiltà Rurale di Rocca di Montemassi è insieme esperienza dei luoghi, conoscenza degli uomini e percezione della storia. La tenuta Rocca di Montemassi è un esempio ideale di fattoria toscana, propulsore e testimone autentico di vita rurale contemporanea. I vigneti sono affiancati da varietà antiche di cereali, da un oliveto, dall'allevamento della pregiata vacca maremmana. Il Museo della Civiltà Rurale si può visitare prenotando un tour guidato della tenuta, con possibilità anche di degustazione di vini, naturalmente. Disponibili diverse opzioni. Tour Rocca di Montemassi, tour Profumi e Sapori di Maremma, tour Il Gusto della Maremma. All'interno di questa splendida cornice i nostri ospiti possono vivere l'esperienza unica di un tour dell'azienda. dei suoi vigneti e delle coltivazioni, visitare la cantina e il museo della civiltà rurale e degustare i vini della tenuta.